Il nostro problema principale è la mancanza di personale qualificato e soprattutto la mancanza di giovani. Stride questa situazione considerando che a fine marzo molti sanno già che si troveranno senza lavoro, eppure questa azienda nel corso del Prosecco è in forte difficoltà a evadere tutte le commesse, semplicemente perché non c'è personale. E proprio non c'entra stipendio o competenze, qui stando il titolare nei giovani manca proprio la voglia di lavorare. Perché accogliamo gli stegisti delle varie scuole del circondario, i quali una volta provato non resistono, preferiscono mestieri diversi, preferiscono andare in fabbrica, seguire altre strade, che invece sacrificarsi, sporcarsi le mani e soprattutto formarsi culturalmente per questo mestiere che ha bisogno di tanti tanti corsi continuamente. Per capire basta girare l'azienda, qui non solo si revisionano iniettori di tutti i generi, ma si testano nuove parti o si convertono motori a nuovi ecocarburanti. Per intenderci i motori dei vaporetti di Venezia vengono revisionati qui, così come gran parte dei propulsori marini dell'Alto Adriatico. Chiavi fisse e tastiere, morse e monitor raccontano come qui la formazione sia continua e soprattutto stimolante per i nativi digitali. E invece niente, chi si impegna si contano sulle dita di una mano. Tu sei arrivato qui con lo stage? Sì, esatto. E sei uno dei pochi che è rimasto però? Sì, sono otto anni che sono qui. Ho iniziato con la scuola, l'estate e poi sono rimasto qui, insomma. Perché hai deciso di rimanere e non fare come gli altri che sono andati in fabbrica? Perché a me piace questo lavoro, mi dà soddisfazione. Anche se ti devi sporcare le mani? Anche se mi devo sporcare le mani. Non sporcarsi le mani sembra proprio la discriminante delle nuove generazioni e la controprova a Vilente, ci sottolinea il titolare, è questa qua. Se noi li mettiamo in magazzino a codificare i ricambi o in accettazione, allora sì, rimangono. Amara è la considerazione finale che non può non far riflettere. Manca proprio lo stimolo, mancano degli obiettivi, manca la soddisfazione della crescita personale e vedono l'obiettivo solo nell'immediato.